Ad assoluto devo ringraziare Fabrizio Pacifici e Fabrizio ovviamente è doveroso per questo premio e volevo ringraziare tutti quelli che mi seguono sul mio canale YouTube e i FIP che si vendono a disposizione per i miei fitosaluti Mangiante l'abbiamo fatto ma manca qualche cosa io vorrei approfittare in diretta perché mancava qualche cosa Angelo che posso chiamare io sono un personale e voglio fare insieme a te un saluto a tutti quei fan che ti seguono vai Angelo un saluto a tutti e forza Roma e mancava eccola qui i filafori la marina e il salvatore per salutare tutti quei fan ecco ringrazio dei due contributi sportivi sei un grande quindi da porfa manca e mancava mangiare esatto ecco ho dovuto aspettare questo momento per farlo sono arrivato secondo grazie a tutti e voglio fare un ringraziamento speciale a Fiorello ovviamente a Fiorello perché questi giorni mi ha dato una visibilità inaspettata e io non vi piazzo grazie e grazie a tutti grande grazie a tutti grazie a tutti grazie veramente ci siamo un po' di nuova mi ha dato il prossimo anno alla seconda edizione ma 14 marzo abbiamo il premio 7 colli 14 marzo 7 colli quindicesima edizione quindicesima edizione bravissimo 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 grande Cristian centrale qua grazie grazie